Dato che questa volta i passi sono un po' più complicati, sono un po' preoccupato, quindi i passi sono un po' più semplici e divertenti. Stasera sì, sono stato un po' birichino, in realtà non è colpa mia, è colpa del coreografo di sette spose per sette fratelli. Questa è la coreografia di stasera? Sì. Argentina è richiesta di Andrea Nocetti che salutiamo e invitiamo a ballare con noi, se vuole. Non lo farà mai. È un appassionato dei musicals. Quindi significa che si balla a coppie? Si balla a coppie e dobbiamo iniziare proprio di fronte uomini e donne. Allora, attenzione cari amici, vi dovete accoppiare, uomo, donna, uomo, donna. Chi resta senza partner è bregato di andare al bar. Dai, dai, dica no. Che resti può fare anche donna, donna. Anche donna, donna, uomo, uomo, va bene, va bene. Ci spostiamo al centro. Ci spostiamo al centro. Anche voi amici della GIL, scuola di danza. scuola di ballo GIL, quindi seguiteci. Venite da questa parte, quindi andiamo a riempire il centro, ma mi raccomando, a coppie. Anche donna, donna va bene. Ma guarda, in realtà è automatica la cosa. No, è un uomo, uomo. Noi uomini dobbiamo mettersi lungo questa linea. Le donne si metteranno di fronte a noi, lungo uomini da questa parte, donne dall'altra, grazie. È un po' come la colita, è presente la colita. No, non è un po' come la taurina. Eh sì, sì. Con il GIL. Non in due file, signore. Beh, fermo, fermo. Siamo ancora qui. Aspetta, aspetta, un attimo. Va bene, va bene. Che non è un giovane. Non sappiamo cosa fare. Allora, perché non mischiamo le coppie? No comment con le show ladies? Dai, dai. Le show ladies, le donne dei no comment con gli altri uomini in fila. Oh, guarda come sono contenti loro. Oh, calma, calma. Eh, sei contento, eh. Certo che se solo per le posizioni abbiamo perso un quarto d'ora, non so. Com'è l'antifondo? Uomini da questa parte, donne dall'altra. Bene. Regia, mandala pure un po' più bassa, così ci ambientiamo intanto noi, no? Allora, il primo passo è molto semplice. Passo pistone, passo pistone, un po' più basso, regia. Ok, perché non ci sentiamo. Il passo pistone è questo. Cioè noi per i primi otto tempi di intro semplicemente ci scaldiamo. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Oh, ma stia via lì, però parlano troppo. Vi mando dietro la lavagna. Silenzio, non dobbiamo fare. Ok, dite dietro la lavagna. Dopodiché quattro passi di avvicinamento. Quindi uno, due, tre, inchino. Dietro, dietro, sette, otto. Quindi tre, andare, mi fermo vicino. Vai, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Allora, la quadriglia. E lo facciamo una volta. La seconda volta che succede, l'uomo passa alla destra della donna. Uno, due, tre, quattro. Mi gira attorno, sette, otto. Mi hanno dato una volta. Sì, ma fa la danza e sofferenza da Ormina. È così, purtroppo. Lo rivediamo. Magari teniamo un po' le distanze. Teniamo un po' le distanze. bambini, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Siamo ancora allo switch, chiedo scusa. Io pensavo all'inchino. E siamo solo all'introduzione. Si applichi di più, Tormina. E facciamo altri due, altri due pistoni. Quindi uno, due, tre, quattro e finalmente cinque, sei, sette, otto. Andiamo a prendere la nostra dama. Facciamo così, perché sennò diamo le spalle alla telecamera. Girateli in quattro, girateli in quattro. E facciamo quattro passi in avanti. Uno, due, tre, torno indietro. Cinque, sei, sette, otto. Prendiamo la nostra dama. Ma chi è che si ricorda all'inizio? Ecco appunto. Da capo. Da capo, da capo. Vedo già delle rinunce, c'è gente che sta rinunciando. Ma finiamo e trovo. Cinque, sei, sette, vai. Uno, due, tre, inchino. Cinque, sei, sette, vado indietro, torno, giro. E cinque, sei, sette, pistone. Uno, due, tre, e quattro. Cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, e quattro, e cinque, sei, sette, otto. E ci vediamo così. Siamo qui, siamo qui. Attenzione, adesso siamo al basso clou. A questo punto partiamo con la gamba sinistra e facciamo. Destra. Ah, tu la sinistra. Uomini con la sinistra, donne con la destra. Uomini sinistra, donne destra. Altra rinuncia. E facciamo un bel giro. Ok. Giro, giro. E fin qua ci siamo. Sì. E' appunto l'ultima fila che è a Cinisello Balsamo. Non ha capito niente. Eh, si guarda la registrazione domani. Allora, sei di quella di la registrazione. Sì, vai. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Eh, poi. Però all'otto, a questo punto... Attaccati, dai. A questo punto non so se vedono dietro, penso proprio di no, perché il passo più difficile è che all'otto io mi devo far trovare così. All'otto così. Quindi, Clara ed Eugenio, gli altri fa niente. E come fa niente? Eh, vabbè, fa niente. Allora, da qui dovete, tac, cambiare la mano. Ok? E facciamo. Calcio dentro. Calcio fuori. Calcio dentro. Fate pure con la destra avanti. No, 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 di bravo. Sì, è molto difficile. Non è colpa mia, ragazzi. La coreografia è così, eh. Ok. Lo rifacciamo, Eugenio. Allora, calcio. 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 Va bene, dai. Carino, carino. Lo dobbiamo rifare. Sì, va bene. Ci incontriamo. Cinque, sei. Ci incontriamo. Vai. Uno, due, tre, quattro. In realtà era cinque, sei, sette, otto. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Cambio mano. Fatto. Uno, due, tre, e quattro. E così finisce. E così finisce. E sette, otto. Scusami, Eugenio. Facciamo cinque, sei, sette, e otto. Vediamo il sentino. Facciamo il sentino. Dai, cinque, due, sette, e otto. Ok. Da capo, da capo. Quello che viene, viene. Si salvi chi può. Dai. Pistone. Pistone. Questo è l'intro. La Metro Goldinmeier presenta festa in piazza in sette mascaltoni per sette signorinelle. Dirige Luca D'Ottario. Vai. E due, 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 tre, e due, 5, 6, 7, inchino. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Giro, torno. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Pistone. E giù, e giù. mi incontro, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai, e hop, 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 5, cambio mano, hop, 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 5, 6, 6, oh, come è andata? Bravi, lo fanno anche i valtellina, proprio fisicamente, posso proporre, posso proporre le coppie, una formazione mista, l'ultima volta, siamo già in coppia, voglio vedere le coppie in giro per lo studio, dai, dai, accoppiatevi, l'ultimissima, vai, spargliatevi anche, partiamo da questo, dai, l'ultimo pezzettino, 5, 6, 7, e hop, 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 5, 6, cambio, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, e, oh, più o meno, più o meno, Luca Lottario, grazie, era un po' difficile, andiamo prima in pubblicità, andiamo in pubblicità, poi riprendiamo con...